Continuano ad ottenere il consenso dei visitatori che ogni domenica sono sempre più numerosi le giornate di apertura del mercatino degli Angeli di Sordevolo, dove si possono trovare prodotti tipici e idee regalo per tutti i gusti. Fra gli eventi di domenica 5 dicembre è previsto un altro appuntamento con l'esposizione delle auto e da volta di una vettura che da sempre ha incontrato molti consensi fra chi ama un'auto piccola ma sportiva, la grintosa Mini. A proporla domenica 5 dicembre sarà il gruppo Passione Mini Piemonte Club che metterà in mostra circa 35 vetture di vari modelli costruite a partire da quando la Mini è passata sotto il marchio BMW. Per tutte le giornate di domenica dunque la piazza principale di Sordevolo sarà la vetrina di queste brillanti autovetture che nel corso degli anni sono diventate un vero status symbol. I bimbi potranno andare alla ricerca delle tessere del puzzle che il mercatino regala loro e incontrare Babbo Natale che le accoglierà con gioia sulla sua panchina.